a videotop con grande piacere diamo il benvenuto a laura magni ciao laura ciao paolo raccontiamo di storia swing intorno a fernandez o fernandez com'è dove cade l'accento esatto io ho sempre detto fernandez perché è una pronuncia istintiva popolare che non ha niente a che vedere con lo spagnolo ok allora condividiamo fernandez già il il titolo mi piace molto perché una storia la storia swing non l'abbiamo ancora considerato mi fa piacere come nasce una storia swing la storia swing nasce da sola come tutte le mie storie poi si chiama swing da sola nel senso che nel corso della scrittura mi sono accorta di seguire istintivamente sia un movimento che uno stile di scrittura che nella mia testa associo alla parola swing che è fatto di improvvisazioni improvvise le deviazioni ritorni alla cosa principale rallentamenti accelerazioni come una musica swing in effetti è davvero piuttosto articolato se così lo vogliamo definire sia per le situazioni che per le località innanzitutto lo lo identifichiamo nella prima metà del secolo scorso no direi dalla metà del degli anni trenta all'inizio dei cinquanta però flashback che ricostruisce la storia di quattro personaggi risale a dall'inizio del novecento agli anni trenta diciamo anche le località sono sono assolutamente degne di nota no perché vabbè partiamo dalla costa azzurra quindi già già ci fa star bene solo penso che poi l'antico insomma c'è tutto perché questi flashback ricordano l'unico personaggio reale dico bene l'unico personaggio reale e nikos kazanzakis che è questo intellettuale grande scrittore cretese che ha scelto anti come sua dimora definitiva poi non lo è stato perché le cose sono andate diversamente non non c'è tornato per la terza volta ma amava tantissimo antib che diceva gli ricordava creta per la luce per l'aria per lo spirito mediterraneo come sempre dico sia per per la musica che per i libri insomma sono da ascoltare e i libri da leggere piuttosto che da spiegare ma mi piace invece ricordare quello che è il il tuo percorso che vede appunto i luoghi protagonisti di dei tuoi viaggi dove se non vado errato ti stabilisce anche per un certo periodo sbaglio sì io ho sempre scritto di viaggi e con grandissimo piacere e ho sempre privilegiato l'affittare una casa e lo stare a lungo in un posto piuttosto che fare reportage fughe che non mi hanno mai attratto quindi ho vissuto a lungo in giro e soprattutto direi antib e new york due posticini così perché non solo protagonista nella scrittura ma anche nella fotografia un'altra tua grande passione sì 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 infatti ho anche pubblicato per white star un libro sui grandi del foto reportage dal dopo guerra oggi sì con un attenzione anche per quanto riguarda invece la scrittura i bambini dove vinto che sì 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 anche adesso sto ripubblicando un libro vecchio che ha avuto un grande successo e che spero uscirà natale per i bambini anche lì fuori incrociate meraviglioso ma è il fatto di decidere la località nella quale va è legata a un progetto di lavoro o va più anche distinto di voglia di provare nuovi posti ma io ti dirò che non ho mai scritto di posti che non conoscevo già prima cioè ho scritto la parte letteraria di alcune club sempre proponendomi per posti che conoscevo dove ero stata tante volte e poi tornandoci per lavorare ci torno ci sto qualche mese approfondisco nel caso di antibi invece sono andata in seguito a un invito degli affari culturali del comune di antibi joan lepin che mi ha premiato per la qualità dei miei iscritti e che mi ha invitato in una casina storica a un passo del museo picasso per sei mesi e lì ho rivoluzionato la mia vita due anni dopo è successo lo stesso per sette mesi basta ho capito che antibi era il mio destino e adesso che torno a tutti gli anni trovo una sistemazione è uno potendo scegliere non sono diciamo scelte facili perché immagino la difficoltà di 40 che crolla improvvisamente molli tutto assolutamente invece ritornando al libro c'è questo ad allenarsi di situazioni di personaggi e località che si intresciano un po lì tutto il movimento noi infatti come dicevamo all'inizio lo swing che è una una sorta di divagazione se così la possiamo definire del jazz ha proprio questa questi cambi che sono la base proprio della musica paolo posso dirti che il mio amico Bruce Rayburn che è stato per tanto tempo il direttore degli organ jazz degli archivi del jazz a New Orleans mi ha scritto guarda fa in fretta a capirlo se il corpo non si muove istintivamente non ha voglia di non stare fermo e di ballare non è swing quindi è la famosa prova del 9 quella come in matematica questo romanzo o ti fa venire voglia di muoverti o non funziona e quindi non è la classica lettura da poltrona c'è proprio anche fai conto che ogni libro di Morellini e quindi anche il mio ha un extended book a cui ti puoi collegare inquadrando un QR che c'è sulla retro di copertina e ci sono io ho messo mi pare 11 piccoli file che vanno dalla storia alla geografia tutti approfondimenti e c'è anche una 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 playlist che ti consiglio di ascoltare perché ti parlerà dello swing molto meglio di me a voglia questo è garantito di Enzo Gentile che è stato a lungo un critico musicale per Repubblica e che ha girato un videino per spiegare questa cosa ai lettori allora noi non possiamo far altro che farti un grande in bocca al lupo per le prossime avventure di viaggio e anche di scrittura e ci sentiamo alla prossima ciao Paolo